Qual è la specialità della quale vi occupate, ma soprattutto qual è l'importanza di una manifestazione sportiva così proprio nella città dell'Aquina? Allora, la specialità Tiger Sprint è abbastanza nuova, è dal 2017 che è nata a livello internazionale e l'abbiamo subito apportata anche in Italia. L'importanza o l'idea di questa attività sportiva è di rendere più aperto il tiro al segno che normalmente si fa in aule chiuse, al silenzio. Qui invece diamo segno che il sport del tiro al segno è veramente vivo, si apre, esce dai propri muri e si fa vedere anche l'aperto. In più c'è un'altra importanza che gli atleti di alto livello del tiro al segno hanno bisogno di una preparazione fisica. Qui in questa attività sportiva si congiunge la corsa e il tiro, per cui è un altro utile di questa disciplina. Per portarla qui all'Aquila sono stato io l'ultima prima volta nel 2018 e proprio per far conoscere questo sport anche in varie zone siamo usciti e ci siamo trovati questo bell'ambiente. Nel 2020 siamo tornati, nel 2022 in occasione della città europea dello sport di L'Aquila ho proposto di rifarla ancora qui, in campionati italiani. Si potrebbe avere un po' di più di partecipanti, sarebbe bello, però dobbiamo avere pazienza per crescere, per far vedere a tutte le altre sezioni l'importanza di questa disciplina e la bellezza di questa disciplina. Grazie